buongiorno ben ritrovati ai nostri amici a casa sono samuele calzari già ci conosciamo perché abbiamo avuto modo di vederci anche in altre occasioni in questo momento mi trovo nella splendida cornice della ditta Landoni liste nozze stiamo approfittando della loro ospitalità per realizzare per presentare il libro di testo il libro sulla pasticceria che ho appena scritto allora abbiamo pensato anziché fare una classica presentazione come spesso succede dei vari libri abbiamo pensato essendo un libro di pasticceria di realizzare alcune ricette che sono presenti all'interno all'interno del libro il libro si compone di una prima parte teorica merciologica dei vari ingredienti che è fondamentale conoscere per la buona riuscita e la realizzazione di un dolce e è interessante anche successivamente tutto il capitolo legato alle varie ricette per cui anziché fare ripeto la classica presentazione passiamo subito alla parte operativa quindi alle varie ricette che sono presentate nel libro ripeto ringraziamo la ditta Landoni che ci sta ospitando stiamo usando tutte le sue attrezzature e i suoi materiali ringrazio l'ufficio cultura poi diamo una serie di altri appuntamenti legati sempre alla presentazione del libro e ad alcune dimostrazioni di pasticceria ringrazio oggi in questo caso lo Ialdi Saronno che ha dato a disposizione alcuni allievi del terzo anno del corso panificatori per darci una mano nella realizzazione delle ricette e adesso questa prima ricetta che vi presentiamo è la pasta frolla gli ingredienti base per la realizzazione della pasta frolla sono la farina abbiamo il burro o qualunque tipo di altra sostanza grassa tuorali d'uovo e infine lo zucchero c'è poi la possibilità di aggiungere anche gli aromi quindi vanillina buccia di limone o altri aromi a piacimento per cui iniziamo subito la realizzazione della pasta frolla mettendo la farina sulla spianatoia e lavorando la farina disponendo la fontana il processo di mettere la farina fontana permette di poter impastare qualunque ingrediente all'interno della fontana sia esso solido o liquido quindi una volta sistemata la farina fontana all'interno andiamo a riporre il burro e lo zucchero il burro nella pasta frolla va lavorato morbido e senza però lavorarla troppo quindi il burro non deve mai sciogliersi adesso incominciamo impastare quindi il burro con lo zucchero e senza una volta che non abbiamo più dei dei grumi di burro allora andremo ad unire anche i tuorli tutte le tutte le ricette che siamo che realizziamo oggi e nei prossimi appuntamenti sono presenti anche nel libro e il libro è stato fatto in modo tale che per ogni lavorazione siano presenti più possibilità di ingredienti in modo che ciascuno a casa possa provare a realizzare lo stesso dolce la stessa tipologia di dolce in diversi modi scegliendo poi lui a suo piacere qual è quello che più lo soddisfa qual è la ricetta ideale per per i nostri ascoltatori una volta che abbiamo finito di impastare il burro con lo zucchero allora andremo a unire il più velocemente possibile la farina ok mentre finiamo di impastare la pasta frolla per esempio nella pasta frolla interessante capire le diverse percentuali di sostanza grassa rispetto alla dose di zucchero quindi in funzione della lavorazione che si andrà a fare in funzione al fatto se io devo fare dei biscotti piuttosto che un fondo di pasta frolla utilizzerò più o meno zucchero in rapporto alla sostanza grassa per capirci lo zucchero in cottura avrà un effetto di che subirà un effetto di caramellizzazione rendendo il composto molto più croccante a differenza invece del burro che renderà la nostra pasta frolla friabile allora questo cosa vuol dire vuol dire che nel momento in cui io devo realizzare dei biscotti posso permettermi di aumentare leggermente la dose di zucchero in modo da ottenere il classico biscotto che si spezzetta se invece dovrò realizzare un fondo di pasta frolla con la crema pasticcera e magari la frutta sopra mi interessa che al taglio non si spezzetti per cui probabilmente farò una pasta frolla un po più grassa aumentando la dose di burro così da poter avere un dolce finale che è perfetto anche al coltello mentre il collega noa va avanti a impastare sempre riferito a per esempio la parte grassa dalla parte zuccherina ricordo che nella pasta frolla sarà importante comunque non superare mai il 50 per cento di zucchero e il 50 per cento di burro per cui su un chilo di farina è possibile arrivare a 500 grammi di burro e 500 grammi di zucchero e si ottiene una pasta frolla mediamente friabile quello che dicevo prima in funzione poi della friabilità che io voglio ottenere per la realizzazione del mio dolce posso aumentare leggermente o diminuire la dose di burro rispetto a quella dello zucchero allora abbiamo finito di impastare la nostra pasta frolla adesso creiamo un panetto la pasta frolla andrà fatta riposare intanto prendo la pellicola la pasta frolla andrà fatta riposare circa due ore in frigorifero questo processo anche fondamentale perché permette alla pasta frolla di stabilizzarsi permette poi la pasta frolla di essere di poterla stendere senza che si spezzetti e poter realizzare quindi qualunque dolce poi vogliamo vogliamo fare finito di impastare abbiamo impelicolato quindi la nostra pasta frolla la riponiamo in frigorifero noi per comodità di ripresa abbiamo già rimpastato la pasta frolla l'abbiamo già fatta riposare per cui questa qui che abbiamo preso adesso è una pasta frolla che ha già riposato in frigorifero quindi possiamo utilizzarla direttamente vista la quantità possiamo dividerla la dividiamo in due e a questo punto andiamo a realizzare dei biscottini se per caso la pasta frolla dovesse attaccare al mattarello oppure alla spianatoia o al tavolo di lavoro basterebbe aggiungere un pochino di farina allora a questo punto una volta che abbiamo steso la pasta frolla recuperiamo una teglia recuperiamo un coppapasta una teglia e anziché usare la carta da forno che spesso poi si butta via eccetera usiamo dei fogli in silicone che sono comodissimi e andiamo a stampare i biscotti se si vuole anziché lasciare così com'è i classici biscotti possiamo fare delle varianti delle variazioni per cui basterà avere in questo caso noi abbiamo qui della granella di nocciola si può avere anche della granella di zucchero si può avere del dello zucchero semolato e basta delle gocce di cioccolato e basterà col pennello spennellare il biscotto capovolgerlo sulla granella di nocciola e riporrelo sulla teglia così che rimanga poi la granella sul biscotto una volta che abbiamo finito quindi i nostri biscotti andiamo a infornarli questo qui verrà infornato a circa 180 gradi per più o meno un quarto d'ora 20 minuti trascorso il tempo di cottura quindi circa un quarto d'ora andiamo a prendere la nostra teglia e questi qui sono i biscotti il prodotto finito io invito Anna se può venire raggiungerci così prova il biscotto visto che voi da casa non potete però così ci dai un parere se mangio vuol dire che è buono eccoci quindi abbiamo visto la preparazione della pasta folla e la realizzazione di alcuni biscotti vi ringraziamo vi diamo appuntamento alle prossime presentazioni ringrazio nuovamente la landoni lista e nozze per l'ospitalità ringrazio loyal i ragazzi che hanno collaborato vi ricordo che abbiamo diversi appuntamenti per quanto riguarda la presentazione del libro pasticceria tecnica arte passione il prossimo appuntamento è lunedì 22 alle ore 18 presso il collegio arcivescovile castelli oppure qui vi invito davvero a partecipare perché una manifestazione sarà particolarmente ricca di eventi ed è domenica 28 ottobre in cui sarà il compleanno della lego e l'anniversario dell'agres in questo splendido contesto ci sarà una presentazione sempre l'aldomoro alle ore 10 del libro sempre con alcune dimostrazioni di pasticceria e un'altra invece alle ore 16 vi ringrazio e a breve allora arrivederci alla prossima ricetta sempre del libro di testo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti